Al Teatro di Corte della Reggia di Caserta, l'evento internazionale Cultura Corte Caserta for the Arts. Grande cornice di pubblico e tantissimi nomi illustri dell'istituzione della politica nazionale, questo pomeriggio al Teatro di Corte della Reggia di Caserta, per il rinomato appuntamento con il convegno Cultura Corte Caserta for the Arts. L'evento di respiro internazionale ha come obiettivo di avviare un percorso per la produzione e la diplomazia culturale europea, partendo da un ponte di relazioni interculturali tra Caserta e la sua reggia e di musei del Cremlino a Mosca. Il diktat è creare opportunità di collaborazione culturale tra le istituzioni nazionali e internazionali, affinché si determinano occasioni di scambio e di sviluppo utili al potenziamento delle realtà culturali operanti sul territorio, sviluppando in tempi brevi le potenzialità di Caserta come polo culturale. La chermessa ha avuto inizio con le giovani voci dell'Associazione musicale casertana portavoce dell'Unicef, che hanno cantato l'inno alla gioia, accompagnati da piano e soprano. Poi il discorso del sindaco di Caserta Carlo Marino e di relatori che hanno spiegato le tematiche della sinergia. Sul palco, Germana Di Falco, core expert politiche urbane e territoriali. Elena Gagarina, direttrice dei musei del Cremlino di Mosca, Claudio Bocci, direttore FederCulture e l'europarlamentale Nicola Caputo. Presenti anche Mauro Felicori, direttore della Regia di Caserta, Gianluigi Trettino, presidente Confindustria Caserta e Tommaso De Simone, presidente della Camera di Commercio di Caserta. Nel finale, momento emozionante con il concerto per piano e violoncello. Sì, è il momento di svegliarci. Il tentativo che vogliamo fare con il lancio di questo evento, che poi sarà il primo di una lunga serie di eventi, anche di manifestazioni, è quello di scuotere un poco la comunità e soprattutto fare in modo che tutti quanti siamo più consapevoli dei tesori che abbiamo e della possibilità di far diventare la cultura il nostro asset principale anche per lo sviluppo del nostro territorio. Ci sono tutte le condizioni, grazie soprattutto al New Deal che si è stabilito con De Luca alla Regione, il sindaco Marino a Caserta, Mauro Felicori alla Regia di Caserta. Ci sono tutte le condizioni perché ci sono persone sensibili che sicuramente vorranno fare sistema. Sta a tutti i cittadini, a tutti noi, anche per contribuire in questo scatto d'orgoglio che dobbiamo avere. Caserta non può essere ricordata sempre e solo per i problemi che ha, ma abbiamo queste bellezze e dobbiamo fare in modo che diventino il centro di tutta l'azione propulsiva della provincia. Assolutamente, anche la candidatura di Caserta, capitale della cultura italiana, che l'amministrazione comunale ha presentato proprio in queste ore, è un segnale evidente. Penso che dobbiamo tutti quanti lavorare in questa direzione e poi queste iniziative anche bilaterali con i più importanti teatri del mondo. Abbiamo iniziato con il Cremlino, ma sono già in programma iniziative con Salisburgo, Quavignone, con una serie di altre città culturali importanti dell'Europa in modo tale da effettivamente fare qualche cosa di concreto. Io penso che dobbiamo smetterla di piangerci addosso, cercare un po' di discuoterci e soprattutto fare in modo che i sogni che abbiamo iniziano a diventare realtà. Il sindaco Carlo Marino, l'evento Cultura Corte è una location davvero splendida per valorizzare sempre di più la città di Caserta e la reggia di Caserta ovviamente. Sì, la bellezza della grande reggia, gli eventi culturali, ma soprattutto si discute di cultura e come possa fare economia, come dalla bellezza e la creatività della nostra terra possa nascere lo sviluppo di perché le future generazioni devono decidere di sfidare non soltanto di restare in questa terra, ma di investire sulla cultura, sul turismo e su quello che è il grande patrimonio culturale e artistico della nostra terra. Io penso che ci sia un grande lavoro ancora da continuare a fare, ma da qui partiamo le basi perché con l'internazionalizzazione di quello che è il rapporto anche reggio con gli altri musei internazionali si possa costruire il futuro della nostra terra. Caserta ambisce ad essere sempre di più competitiva nella regione campania, vogliamo diventare il polo attrattore culturale nazionale, uno dei grandi attrattori del paese per restare e per vivere la campagna, per fare questo non soltanto ci dobbiamo fermare alla reggia ma dobbiamo valorizzare sempre di più l'altro patrimonio unesco che è il Belvedere di San Leucio e la grande caserta medievale. Avremo un'estate di eventi, avremo la comunale, avremo le leuciane, avremo finalmente di nuovo il settembre al borgo, di qua vogliamo sfidare questi tre mesi di eventi estivi, nei prossimi giorni presenteremo il nostro programma per far diventare caserta attrattiva non soltanto nei musei ma anche nel restare nella città e farla diventare sempre di più punto di interesse per i turisti. È un bel momento quello di questa sera, ovviamente ma l'intera presenza, i due giorni casertani, della dottoressa Cagarina che è direttrice del museo del Cremlino, come sappiamo a Mosca, un museo molto importante e la sua presenza a Caserta evidentemente dà un segnale di ripresa del turismo a Caserta. Il settore del turismo è un settore importante sul territorio casertano e il segnale di ripresa evidentemente sta arrivando anche all'interno dell'economia, solamente nel 2016 le imprese registrate nel settore dell'economia sul territorio casertano erano 6.000 in continua crescita e quindi questa presenza, questo momento rappresentano probabilmente la strada da seguire insieme all'agroalimentare per il territorio casertano per dare evidentemente quel segnale di speranza all'intera provincia. Evidentemente abbiamo pagato un percepito degli anni passati che era un percepito di grande negatività perché venire a Caserta collegato a tutte le cose negative diventava improponibile probabilmente al turista, oggi che man mano che arrivano i turisti il passaparola diventa evidentemente il miglior argomento, la migliore pubblicità per il nostro territorio. Grazie.